Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla pastora Erika Tomassone. Buona domenica sorelle e fratelli e benvenuti, ben ritrovate a questo culto. Questo è un culto particolare perché oggi è l'ultimo giorno dell'anno 2023. Ci raccogliamo tutti insieme sotto lo sguardo del Signore. Il nostro principio è la nostra speranza. Sono in Dio che ha fatto il cielo e la terra e ci salva in Gesù Cristo. Amen. E' scritto i miei giorni sono nelle tue mani. Preghiamo. Nostro Dio è trascorso un anno della nostra vita, della nostra vita personale, della nostra vita di famiglie, nel gruppo dei nostri amici. Un altro anno aggiunto alla vita delle nostre chiese. In questo anno non abbiamo tutti vissuto le stesse cose. C'è chi ha vissuto bei progetti, chi ha realizzato un piccolo o grande sogno. Nuovi bambini e bambine ci hanno raggiunti in questo mondo e altre persone ci hanno lasciati. E siamo più grandi, più vecchi di un anno. Ti chiediamo di ricordarci che ogni nostro giorno, lieto, triste, promettente o disperante, sta saldamente nelle tue mani e che nessuno di questi nostri giorni si perde anche se noi non ce li ricordiamo. Tu che tieni tutti i giorni del mondo secondo il tuo amore fedele, accompagnaci alla fine di questo anno, all'ingresso di un nuovo anno, con il tuo amore eterno, con il tuo tempo che è lunghissimo. Noi ti lodiamo perché sei il Dio eterno, ma anche il Dio dei nostri piccoli giorni. Amen. E al Signor della gloria, nel re dei secoli noi celebriamo la vittoria. E al Signor della gloria, nel re dei secoli noi celebriamo la vittoria. Sovra ridati la salvi noi tutti apportato. E nel sostegno, poiché ad ognuno conviene, di camminare col suo aiuto. Gloria ad ognuno conviene, di camminare col al Signor della gloria, senza per papà. La gloria, nel Gior Daft & Zio molto più grande, probabilmente gli ameriarrили, by che trovi looks male al Signor leursini senza per PA. Lui per l'Ognuno conviene, di camminare col questi paesi, Leggiamo nel Libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 3, i versetti da 1 a 15. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora. Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha persino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita. Ma se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ciò che è, è già stato prima. E ciò che sarà, è già stato. E Dio riconduce ciò che è passato. Carissime e carissimi, oggi è l'ultimo giorno dell'anno, anno 2023 naturalmente. Allora mi sono chiesta, ma com'è che vediamo il nostro tempo in genere? Eh, lo vediamo come una riga. E mi è venuta in mente una poesia veramente interessante di Constantino Cavafis che è stato un poeta greco molto importante della fine dell'Ottocento che parla del giorno dell'ultimo dell'anno come di una fila di candele. E questa fila di candele ha alcune candele ormai spente che sono tutti i giorni trascorsi che non torneranno più, tutti gli anni passati che non torneranno più. E gli prende un po' d'ansia. Perché guarda in avanti alla fila di candele ancora accese e non riesce tanto a valutare se sono tante o sono poche. Quanti giorni, quanti anni avrà ancora davanti? Eppure dice io non mi voglio girare verso le candele spente. voglio guardare pieno di speranza alla fila delle candele ancora accese. Allora se proprio il nostro tempo deve essere così come una linea almeno facciamo come faceva il poeta guardiamo in avanti guardiamo a queste luce dorata di giorni ancora da vivere di anni ancora da vivere. La Bibbia nel testo che leggiamo questa mattina non ha però questa idea di un tempo lineare ma piuttosto di un tempo che ritorna come dei cicli un tempo in cui ci sono dei contrari c'è il tempo per nascere e il tempo per morire c'è il tempo per piangere e il tempo per ridere e con molto realismo tra tutti questi contrari il testo dice anche c'è il tempo per la pace e c'è il tempo per la guerra una alternanza di tempi però la vita non è semplicemente un elenco di cose contrarie infatti con questi contrari il testo vuole sottolineare che il tempo non è lineare ma è ciclico ritorna le cose ritornano e così la vita non è solo la sua lunghezza o la sua brevità il suo cammino dalla vita alla morte ma la vita si svolge in un'alternanza di eventi di reazioni umane in un'alternanza tra ridere e piangere non tutta la vita è sempre piangere non tutta la vita è sempre ridere e bisogna saper riconoscere questi tempi diversi per vivere le situazioni comuni più frequenti che ci capitano che non sono proprio così estreme bisogna saper riconoscere i tempi in cui viviamo è interessante quindi che la Bibbia riconosce che la vita umana è complessa e alla fine questo testo dice prendere coscienza di questi cicli di questi contrari a una direzione ed è che noi possiamo rallegrarci e procurarci del benessere io credo che questo testo alla fine dell'anno può risuonare come un manuale di sopravvivenza un manuale di sopravvivenza che certo non ci fa vedere grandi spazi di fantasia o di piena sconfitta di tutto il negativo ma ci conforta dicendo da che mondo è mondo la vita su questo pianeta si vive di questi contrari e allora riconosci il tempo affronta i diversi tempi ma naturalmente c'è un terzo punto che mi piace tantissimo di questo testo ed è quando si parla della sottomissione alla logica di Dio perché il tempo di Dio non è un'alternanza tra contrari il versetto 11 dice Dio ha messo nei cuori degli esseri umani il pensiero dell'eternità cioè il tempo di Dio è il tempo dell'eternità in realtà la la parola originale di questo testo non dice il tempo dell'eternità ma dice il tempo lunghissimo Dio ha messo nel cuore degli esseri umani la coscienza che c'è un altro tempo oltre il tempo limitato umano oltre il tempo ciclico dell'essere umano ed è il tempo lunghissimo di Dio il tempo della fedeltà di Dio certo questo tempo lungo lunghissimo di che Dio vuole che noi conosciamo non cancella il tempo umano ma mette in queste alternanze di ridere piangere di pace di guerra di allontanarsi gli uni dagli altri riavvicinarsi gli uni agli altri in questa alternanza mette una scintilla del suo tempo eterno allora questo vuol dire una cosa importante che Dio raccoglie tutti i nostri vari sfaccettati tempi tutti i nostri istanti di vita quelli in cui ridiamo e quelli in cui piangiamo e non ci condanna a rimanere in uno o nell'altro ma alimenta del suo tempo eterno il cui nome è amore ogni tempo transitorio delle nostre vite amen l'idea o il genere di l'idea di 그때 attac обяз . l'idea criminale con tutto il cuore e che riempi di felicità all'alloglia il prevedere il Signore che spera il sole il grito solito parla dell'oppresso e certa libertà il prevedere il Signore che sempre prevedere conosce la potza che lo sostenerà all'alloglia cantiamo al Signore il liberato lo chiamo colui mi ha fatto fiorire la nuova humanità cantiamo al Signore e che riempi di felicità nessuno potrà sconfiggere il suo amore alleluia ci raccogliamo ci raccogliamo in preghiera nostro Dio ormai lo sappiamo qualunque nostro buio è illuminato dalla tua luce ormai lo sappiamo ogni nostro tempo breve o lungo è accompagnato e sostenuto dal tuo tempo quel tempo lunghissimo della tua fedeltà del tuo amore soccorritore ti chiediamo di manifestarci i segni del tuo amore nell'anno che si apre fa che non siamo troppo severi con noi stessi e con gli altri se facciamo i bilanci dell'anno trascorso mobilita ancora una volta le nostre energie le nostre risorse al servizio di chi è nella necessità fa che le nostre azioni i nostri pensieri siano orientati dall'annuncio della buona notizia che tu hai portato al mondo in Gesù fa che non ci siano estrane le sofferenze degli altri e delle altre il grido d'aiuto che sale da tante guerre dichiarate e non dichiarate su questa terra fa che non ci disperiamo quando la nostra buona volontà e la nostra azione non riesce a sconfiggere la guerra e la violenza ma fa che ogni giorno quando ti preghiamo possiamo dire con piena convinzione liberaci dal male libera o Dio questo mondo dal male e dai pace ai nostri giorni ogni cosa per noi per gli altri per i conosciuti e gli sconosciuti noi ti chiediamo nel nome del tuo figlio Gesù Amen Padre nostro che in cielo dimori e il tuo nome esaltiamo la virtù e il tuo nome si è fatto signore come in cielo e il tuo volere qua giù Oggi il pan quotidiano ci dona e le offese diventi ciancòi come agl'uno gli voglie perdonare al fratello che gli è debito. C'è questo amorevole paterno dalle isidie del gran tentatore Tu sei il regno potente e eterno Tu fedele e glorioso Signore E ci salutiamo e salutiamo questo anno 2023 accompagnati dalla benedizione del Signore Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Erika Tomassone Grazie a tutti